Ehi ragazzi, io sono Callari e oggi siamo qui in una nuova Top 5, ovvero la Top 5 dei migliori giochi Pokémon, secondo me sempre. Ringrazio WitherDeltaZZ per il consiglio, detto questo iniziamo. 5. Earth, Gold e Soul, Silver. Giochi che ho rigiocato anche abbastanza recentemente, però in versione randomizzata. Che dire, due capolavori anche perché hanno il Pokémon che ti segue e che è una cosa fantastica. E quindi quinto posto meritato. 4. Pokémon Rossofuoco. La prima generazione è sempre la prima generazione, che dire ragazzi. Sia rosso che blu, che giallo, che rossofuoco e verde foglia sono di giochi fenomenali. 3. Pokémon Platino. Il gioco Pokémon che ho giocato con più persone. Mi ricordo ancora i pomeriggi passati a trucidare bambini a caso con il nostro Darkrai al 100. Che ricordi. 2. Pokémon Sole. Dovrebbe anche essere Ultrasole in questa posizione, essendo la copia di Sole, ma ragazzi Ultrasole l'ho giocato a forza, visto che nemmeno tre mesi prima aveva abbandonato Sole, che invece mi è piaciuto moltissimo. Tanto da completare il Pokédex. 1. Pokémon Smeraldo. Primo gioco Pokémon mai giocato. Ci feci molteplici errori, tutti racchiusi in tre video. Fra l'altro, la prima parte è quasi a 10k visual. Perché non ci ripassate così, mi invitate un po' a arrivare a 10k e dico, oh mio Dio, sono proprio fico. Vabbè ragazzi, che dire, primo posto ho meritato. Niente ragazzi, perché non mi fate sapere la vostra top qui sotto nei commenti? Se il video vi è piaciuto, mi lasciate anche un bel piacere in su. Commentate, condividete il video con i vostri amici. E vi ricordo pagina test... Sì, testagram, ovviamente le mie dislessie. Vi ricordo pagina Instagram e Telegram. E detto questo, ci vediamo un prossimo video. Ciao!